Numero 11. In questo modo Gesù inserisce il suo novum radicale all'interno dell'antica cena sacrificale ebraica. Quella cena per noi cristiani non è più necessario ripeterla. Come giustamente dicono i padri, ciò che annunciava la realtà future ha ora lasciato il posto alla verità stessa. L'antico rito si è compiuto ed è stato superato definitivamente attraverso il dono dell'amore del figlio di Dio incarnato. Il cibo della verità Cristo immolato per noi con il comando fate questo in memoria di me. Egli ci chiede di corrispondere al suo dono e di rappresentarlo sacramentalmente. Con queste parole pertanto il Signore esprime, per così dire, l'attesa che la sua Chiesa, nata dal suo sacrificio, accolga questo dono, sviluppando sotto la guida dello Spirito Santo la forma riturgica del sacramento. Il memoriale del suo dono perfetto, infatti non consiste nella semplice ripetizione dell'ultima ceda, ma propriamente nell'Eucaristia, ossia nella novità radicale del culto cristiano. Gesù ci ha così lasciato il compito di entrare nella sua ora. L'Eucaristia ci attira nell'atto oblativo di Gesù. Noi non riceviamo soltanto in modo statico il locus incarnato, ma veniamo coinvolti nella dinamica della sua donazione. Egli ci attira dentro di sé. La conversione sostanziale del pane e del vino nel suo corpo e nel suo sangue pone dentro la creazione il principio di un cambiamento radicale, come una sorta di fissione nucleare, per usare un'immagine a noi oggi ben nota. Portata nel più l'intimo dell'essere, un cambiamento destinato a suscitare un processo di trasformazione della realtà, il cui termine ultimo sarà la trasfigurazione del mondo intero, fino a quella condizione in cui Dio sarà tutto in tutti.